Ciao a tutti, 6 errori drammatici che le donne fanno con gli uomini. In questo video voglio spiegarti 6 errori drammatici che le donne fanno con gli uomini. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento e abbonamenti base per dare un sostegno al canale, per partecipare alle live e l'abbonamento seminari online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. E veniamo al tema 6 errori drammatici che le donne fanno con gli uomini. Allora, quali sono 6 errori drammatici che le donne fanno con gli uomini? Allora, sono diversi gli errori drammatici che le donne fanno con gli uomini. Quali sono questi errori? Allora, il primo errore è che si portano i fantasmi del passato, se li trasportano nel presente. Questo è un primo errore drammatico, diciamo, il trasporto degli errori del passato nel presente. E' un grave errore questo perché non ti permette di vivere bene le relazioni, cioè ti distrugge sempre. Perché se tu, ad esempio, hai un vissuto legato al tradimento, cioè hai sofferto per il tradimento, eccetera, questo fantasma del passato, diciamo, te lo porti nel presente, sarai gelosa, sospettosa magari di uno che invece è fedele nei secoli in un comulamma dei carabinieri, per dire. E questo devi tenere presente che non è la cosa buona e giusta da fare per portare avanti una relazione, perché magari allontanerai di fatto la persona giusta. In più, talvolta potrà succedere che questa tensione, diciamo, è talmente forte che te la vai a ricercare come hai vissuto. Per cui vorrai un uomo fedele, ma ti namorerai di tutti quelli traditori, che ti tradiranno, addirittura poter andare a innamorare di un uomo sposato, ad esempio, che è, come dire, dove il tradimento è pure istituzionalizzato. E questo è un primo errore. Quindi bisogna cercare di evitare di portarsi i fantasmi del passato nel tempo presente. Un altro grave errore è quello di non controllare le proprie emozioni. Non controllare le proprie emozioni è un altro grave errore che spesso fanno molte donne. Molte donne sono molto emotive e il fatto di non saper controllare le emozioni è comunque un errore, perché se tu non sai controllare le emozioni, agisci, diciamo, in preda, diciamo, a delle paure. Le emozioni non controllate, come dire, ti fanno venire la paura dell'abbandono, ma ti fanno agire anche in modo compulsivo, insomma, senza una strategia vera e propria, no? Quindi in ballo è come essere una barchetta in un mare in tempesta senza remi, senza un timone, insomma. Questo è quello che succede poi molto spesso. Quindi il fatto di non controllare le proprie emozioni è un altro grave errore. E poi c'è un terzo errore che è dire sempre di sì. Non sapere dire di no. Non sapere dire sempre di sì per captarsi una benevolenza, perché pensi che dicendo sempre di sì riesci a ottenere dei risultati migliori. Questo è un altro errore, è un altro errore grave. Perché? Quale motivo? Ma semplicemente per il fatto che se dici sempre di sì non riesci, diciamo, a dimostrare di avere una personalità. Appare come una donna priva di personalità. Appare come una donna che non ha un suo, come dire, un suo pensiero. Appare come una donna che non sa fare le scelte giuste. Questo è un altro grave errore da evitare correttamente. Quindi cerca di evitare di dire costantemente sì, perché non è il modo migliore. Quando fai emergere la tua personalità, impara a dire di no. È importante, molto importante. E poi c'è il quarto grave errore, che è quello legato alle gratificazioni. Cioè essere eccessivamente gratificante nei confronti di una donna non porta a nessun beneficio, non porta veramente a nessun risultato apprezzabile da questo punto di vista. Perché essere eccessivamente gratificante porta a non generare tensione. Noi sappiamo che la seduzione si manifesta quando la tensione è presente. Quindi quando esiste una differenza tra immagine reali e immagine ideali. Tra ciò che voglio e ciò che ho. Tra ciò che vorrei avere e ciò che vorrei... e ciò che invece ho in realtà. Tra ciò che sono e tra ciò che vorrei essere. Quindi se tu gratifichi, non generi questa tensione, no? Se tu gratifichi nel tempo giusto, cioè gratificare cosa vuol dire? Vuol dire fare tutte le cose che quest'uomo vorrebbe che tu facessi nei tempi e nei modi in cui vorrebbe che tu le facessi. Ti rende praticamente una donna poco attraente da questo punto di vista. non ti permette di attrarre, non ti permette di conquistare e di fatto ti renderà una donna poco poco interessante. Quindi è molto importante smettere di gratificare ma saper anche penalizzare. Cioè saper creare tensione. Perché la tensione in un modo o nell'altro è quella che poi genera, come possiamo dire, interesse, insomma. Ecco, è fondamentale questo. E il quinto gravissimo errore è parlare dei tuoi problemi. Cioè quando incontro un uomo non puoi metterti lì a parlare dei tuoi problemi. Uuuuuh, uuuuuh, uuuuuh. Non funziona, non va bene. E mi è capitato questo. E sono senza soldi. E sono senza lavoro. E c'è una qua. E c'è una là. Beh, è ovvio che inneschi i meccanismi di difesa e che li metti in fuga. Questo è importante. Cioè tu li metterai comunque in fuga, le persone. Le metterai comunque in una situazione di netta demarcazione, insomma. Cioè non farai sicuramente le cose buone e giuste, diciamo, da questo punto di vista. Farai sparire. Farai sparire completamente gli uomini che innescheranno meccanismi di difesa. Perché a nessuno fa piacere intralazzare, come dire, con una persona problematica piena di problemi. Questo devi tenerlo presente. È un dato di fatto fondamentale. E poi un'altra cosa è cercare, diciamo, il sesto grave errore è cercare la simbiosi. Cioè cercare la simbiosi che vuol dire? Vuol dire rinunciare ai tuoi desideri. Rinunciare completamente ai tuoi desideri e andare a volere una relazione simbiotica, diciamo, con una persona. Ecco, quindi le relazioni simbiotiche non ti portano da nessuna parte. Cioè vivere in simbiosi non è una vita positiva. Fa fallire miseramente qualunque tipo di relazione. Dopo un po' saturi e li fai scappare. Ecco, cerca di evitare questi sei errori perché non ti porteranno da nessuna parte, con nessun uomo purtroppo. Ti metteranno, faranno sì che tutti gli uomini tenderanno poi a scappare, insomma, da te. Bene. E per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like. Iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai le notifiche dei nuovi video. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare. Potrai scegliere tra diversi livelli di abbonamento. Gli abbonamenti base per dare un sostegno al canale e per partecipare alle live. E l'abbonamento seminari online per partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. E seguimi anche su TikTok. Ciao.